Amiche e amici di Grottaglie, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il nostro podcast che racconta le storie, le leggende, le tradizioni e le vicissitudini che hanno attraversato nel tempo la popolazione e la città di Grottaglie. In questo episodio in particolare parleremo di uno dei protagonisti della storia grottagliese, importante perché tra le altre cose ha segnato proprio fisicamente la sua presenza a Grottaglie. Parliamo dell'arcivescovo Giacomo Datri che in qualche modo marcò il suo essere arcivescovo e barone in una maniera veramente molto evidente, ovvero realizzando il castello episcopio, cingendo di mura l'abitato di Grottaglie e realizzando anche la chiesa matrice, la collegiata. Come raccontano nel loro volume Grottaglie, vicende, arti e attività della città della ceramica Rosario Quarante e Silvano Trevisani, un tempo esisteva certamente per le riunioni religiose un tempio, una chiesa in dotazione alla popolazione di Grottaglie, perché qualche autore locale, raccontano i due autori, non esita ad affermare l'esistenza di una basilichetta, che con l'ingrandimento del paese doveva però rivelarsi insufficiente. Documenti però che suffraghino tale notizia non ce ne sono, all'infuori probabilmente di tre edicolette lapide e tuttora conservate sull'attuale facciata della chiesa madre, e poste precisamente una alla sommità del rosone raffigurante Cristo in trono e le altre due nella parte inferiore di detto rosone, poco al di sopra dell'arco, raffiguranti l'arcangelo Gabriele a sinistra e la vergine annunziata a destra. Queste edicolette sembrano anteriori alla facciata perché mostrano nello stile più rozzo e duro e nelle dimensioni troppo piccole in rapporto alla facciata una collocazione spazio-temporale diversa. Quanto alla loro provenienza, qualcuno afferma che esse erano situate nell'altare esistente sotto il portico dell'antica basilichetta e verrebbero assegnate al X secolo. Non deve meravigliare la rozzezza artistica di queste edicolette perché in Grottaglia abbiamo un altro esempio analogo, nella statua in pietra raffigurante la vergine con bambini in braccio, un tempo conservato nel santuario di Santa Maria Mutata ed oggi ospitata in una cappella laterale della stessa chiesa matrice, una statua che è l'eloquente esempio di arte romanica adattato e condizionato dall'elemento locale. E' del 1343 un documento che parla della fondazione di una chiesetta dedicata a San Nicola. Si tratta di una bolla dell'arcivescovo Ruggero Capitignano Taurisano, interessante per la datazione, in cui si legge redatto a Grottaglie nella nostra abitazione il 7 marzo dell'anno del Signore 1343. Se ne deduce che anche allora i vescovi di Taranto erano soliti soggiornare in Grottaglie in una residenza non fortificata, ancora, come fa intendere il termine, domestica, mentre in seguito troveremo sempre termini che richiamano la natura militare del palazzo, come castrum e arcs. Ora, dicevamo che la edificazione del castello, quella della chiesa matrice delle mura che ci inserano Grottaglie, sono dovute all'arcivescovo Giacomo d'Atri. La figura dell'arcivescovo, raccontano ancora Rosario Quaranta e Silvano Trevisani, pur rappresentando molti lati oscuri, non è del tutto avvolta nel mistero. Fu nativo di Atri e governò dal 1354 al 1381, quando venne brutalmente trucidato. Il suo presulato fu caratterizzato da alcune liti col capitolo della cattedrale di Taranto, per cui preferì dimorare spesso in Grottaglie, dove fortificò la residenza come un monito castello e dove si preoccupò di cingere di mura l'intero abitato. Morì di morte violenta in Grottaglie la notte del 15 luglio 1381. Sulle modalità e sulle motivazioni di questo delitto vi sono due tradizioni. Gli storici grottagliesi propendono per un intrigo amoroso, gli altri per una cospirazione politica. Una costante tradizione raccolta dal caraglio, infatti, dice che l'arcivescovo Giacomo venne ucciso da un tal viaggio annicchiarico che, avendolo di notte sorpreso con la moglie, sopraffatto dalla gelosia e dall'ira, si scagliò contro il prelato colpendolo a morte con la zappa. La linea politica è invece così narrata da Pietro Massafra. Il fattaccio avvenne a Grottaglie proprio a luglio perché gli arcivescovi di Taranto, proprietari di quel castello, vi andavano, sino a qualche tempo fa, a passare le ferie, sfuggendo in collina la bollente estate tarantina. Proprio lì l'arcivescovo fu raggiunto dai sicari e ucciso. L'episodio è da ricollegarsi al clima di violenza e terrore di quegli anni così difficili. Il nostro presule aveva mantenuto il giuramento di fedeltà al Papa legittimo. È una fazione cittadina, favorevole invece alla regina e quindi all'antipapa non gliel'aveva perdonato. Ecco, vedete, qualcuno direbbe nulla di nuovo sotto il sole. Ancora nel 1300 c'erano lotte politiche, c'erano fazioni che si scontravano, c'era addirittura chi risolveva queste questioni col sangue. Non sapremo mai in realtà quale sarà la verità, se effettivamente Giacomo Datri aveva una relazione clandestina con una popolana o se invece questa storia sarà stata messa in giro ad arte per infangarne la memoria, per in qualche modo coprire la motivazione politica del delitto. Sappiamo appunto che Giacomo Datri si era mantenuto fedele al giuramento di obbedienza nei confronti del Papa Urbano VI ed era quindi diventato in viso di una parte della popolazione che, come dice appunto Piero Massafra, era invece a favore della regina Giovanna D'Angio e dell'antipapa Clemente VII, da lei riconosciuto, tra l'altro con una decisione che contribuì allo scisma d'Occidente. Quanto invece alla Chiesa Matrice, come dicevamo e come raccontano appunto Silvano Trivisani e Rosario Quaranta nel loro libro, un caso quasi più unico che raro, abbiamo una testimonianza certa della datazione del palazzo. Perché? Perché sulla porta, sulla porta, sul frontone della Chiesa Matrice è riportata una iscrizione che recita così, tradotta. Il maestro Domenico De Martina compì quest'opera nell'anno dell'incarnazione del Signore 1379 sotto il presulato di Giacomo, arcivescovo di Taranto. Quindi l'iscrizione afferma con sicurezza quando, dove e per il reglassamento di chi venne rifatta la Chiesa Grottagliese. Quindi ancora una volta la storia si fonda sicuramente sulle ipotesi, sulle testimonianze, ma soprattutto sui fatti e in questo caso i fatti sono a volte stabiliti, a volte sono appunto solamente ipotizzati. Quello che sia e quello che possiamo dire è che certamente Giacomo Datri, questo arcivescovo, fu un protagonista della storia grottagliese, non solo religiosa, ma come abbiamo visto anche politica e sociale. Un innovatore probabilmente, sicuramente come abbiamo detto, contribuì a lasciare a Grottaglie delle testimonianze, dei monumenti che ancora oggi fanno bella mostra di loro, sono i protagonisti di selfie oggi, di cartoline qualche anno fa. A lui, a parte il giardino adiacente al castello, non è dedicata né una statua né una strada cittadina. Forse meriterebbe qualcosa di più. Ecco, questo podcast è un modo tutto sommato modesto, ma crediamo comunque importante per onorarne la memoria. Spero che questo racconto vi sia piaciuto, vi abbia magari svelato qualche cosa, qualche informazione che non conoscevate. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!